Dopo essermi rotolato su decine di materassi ed aver capito che con meno di 1000€ non trovavo niente di meglio del mio vecchio materasso, mi sono ricordato che anche gli svedesi usano i materassi e quando penso agli svedesi penso ad Ikea. Ikea sta arrivando, non resta che prendere le misure del minivan e degli imballaggi del materasso e delle reti addoghe. Mi dirigo a caricare il tutto in una mezz'ora, l'acquisto è fatto. Pacchettato il tutto c'è un unico problema, la rete sulla quale devono essere montate le addoghe è una vecchissima rete a molle, dunque ci sarà un po' di lavoro per adattare queste super economiche ma deficientissime rete addoghe su questa rete di oltre 30 anni fa. Fatto ciò non resta che srotolare il materasso ed il gioco è fatto. Se l'altezza del materasso risulterà troppo elevata, basterà dare una bella ritagliata alle gambe della rete. Buon riposo. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse initare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti.